Celeste dice Il legame di paura, paura di andare all'inferno, paura della morte, della malattia, eccetera. O avere un atteggiamento da schiavo, una sottomissione strategica per cercare di ottenere qualcosa. La chiave passepartout, credo, sia l'amore per Gesù. L'amore è quello vero, non quello che arriva da uno sforzo, appunto perché non ami. Bisognerebbe essere innamorati di Gesù. A Gesù, credo, non faccia piacere essere invocato solo per richieste. E la mia domanda è, come si fa a innamorarsi pazzamente con tutto il cuore e tutta l'anima di Gesù? Sembra una cosa impossibile. Eppure, a qualche santo, che erano persone come noi, è successo. Ci sono tutte le modifazioni razionali per credere e seguire Gesù, ma manca il batticuore per lui. Credo gli farebbe piacere essere amato e non usato. Grazie. Attendo una vostra risposta celeste. Wow, bellissimo. Grazie, Signore. E volevo aggiungere anche la domanda di una sorella che si chiama Ilenia, giovanissima, che dice Voglio davvero dedicare la mia vita a Gesù e amarlo come Lui mi ama, riuscire a dare tutto ciò che posso, anche di più. Quindi come posso capire se ho dato pienamente il mio cuore a Dio? Alleluia, alleluia. Bellissimo. Abbiamo fratelli bellissimi. Queste sorelle sono, non so, le vedo insieme a tante altre, non sono le sole. No. Come un'immagine della sposa di Cristo. Sai che Gesù è innamorata della sua sposa? Sì. Sì. Non la so come funziona, non mi immagino, non la so, però sì, la so che è innamorata, sì. Alleluia, pure, sì, non riusciamo a immaginare, pure Gesù ci chiama sposa. Non c'è una relazione più intima di una coppia sposata, non esiste. È un corpo, come dice la Bibbia. E la vera Chiesa, non quella dell'Odicea, la Chiesa di Filadelfia è la sposa di Cristo. Dio ci aiuti a far parte della Chiesa di Filadelfia. Amen. Amen. Glorie al Signore. Insomma, io ho pregato per un messaggio di Gesù. Come poter innamorarsi pazzamente con tutto il cuore, con tutta l'anima di Gesù. Angela, ti ho dato qualche scrittura lì? Sì. Ce le hai? Sì, pronte. Vado, puoi cercare una scrittura? Matteo 22, 37 a 39. Ok. Matteo 22, 37. Partiamo da questo trampolino, va bene? Qui è messo sotto forma di comandamento, ma giunge il momento nella maturazione del cristiano che ci si innamora di Gesù senza comandamenti. Comandamento non c'entra più niente. Tu ami Gesù perché lo ami, punto, e basta. Capito? Quando maturi, che cominci e continui a camminare a fianco di Gesù, i comandamenti non ti servono più. Non è bisogno di un comandamento per amare un fiore, apprezzare il profumo di un fiore. Non c'è un comandamento, ama l'arcobaleno, gli uccelli che volano, il vento che soffia, la creazione bellissima. Non c'è un comandamento. Esce dal cuore. I comandamenti sono per gli anticapati. Va bene? Quando siamo anticapati seguiamo i comandamenti. Ma quando cresciamo e allora amiamo Gesù, ci amiamo gli uni e gli altri, perché questo ci dà gioia. Va bene. Non per guadagnarmi un posto in cielo o per non andare all'inferno. No. Perché amiamo. L'amore non ha bisogno di una ragione. Tu ami i tuoi figli. Io ho sei figli e li amo, no? Perché è scritto. Gli amo perché li amo, anche se non fosse scritto. Gli amo lo stesso. Quindi questo comandamento che adesso tu leggi è fatto per gli anticapati. Anticapati come me. Quando non amo il Signore dal cuore. Allora, fratelli anticapati come me, ascoltiamo. Matteo 22, 37. Sì, ma attacca un po' prima. C'è una domanda prima di questo. C'è uno che fa una domanda. Sì, 34. Eh, cosa dice? Matteo 22, 34. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai saducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. Quindi a volte, quando si è in certe situazioni, è importante chiudere la bocca agli oppositori. Come si chiude la bocca agli oppositori? Per questo discorso. Con la scrittura, con la verità. Andiamo nel nome di Gesù. 36. Maestro, quale è nella legge il gran comandamento? Cioè, tutte le cose erano per metterlo alla prova, eh? Cioè, loro, ognuno sapeva già qual era, almeno secondo lui. E questo, Gesù gli risponde con un comandamento che neanche è nei dieci comandamenti. Avanti. Perché? Perché questo è per handicapati. Tutta la legge è per handicapati. La pazienza di Dio ha aspettato 1500 anni da Adamo fino a Noè per vedere se qualcuno si svegliava, se il mondo, se uno come Noè fosse stato il lievito per lievitare il mondo, fare voltarsi verso Dio. Non è successo. Ha dovuto mandare un acquazzone, infatti il diluvio universale, per dare una sciacquatina a un mondo fuori binario come quello di adesso. Avanti. Allora, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse, Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E perché uno si ama Dio così, con tutto il cuore e tutta l'anima? Perché è handicapato? Beh, è handicapato perché questo comandamento non c'era all'inizio. Per uno che fa questo diventa sposato di Cristo, non è handicapato? No, se lo fa perché ha un comandamento, no. E come deve farlo? Eh, deve farlo come facevano prima quando la legge non c'era, quando la Bibbia non esisteva. Come Abramo? Come Abramo, come Noè, come Enoch, Seth, cioè tutta la discendenza di Adamo che ha portato fino a Cristo. Come amavano? Abele come amava Dio, Gesù e lo Spirito Santo? Perché era scritto? No. Perché gli veniva dal cuore. La legge scritta nel nostro cuore. Quindi il mondo è senza scuse. Tutti sanno amare ma non amano. Il peggiore mafioso, criminale, serial killer ama suo figlio, perlomeno alcuni di loro. Altri li uccidono anche quelli. La donna indegna che abortisce il suo bambino ama lo sposo. Ama se per sbaglio ha avuto qualche figlio prima. Capito? Cioè il peggiore mafioso al mondo fa dalle feste, ordina champagne, invita gli altri mafiosi, si ubriacano, mangiano, bevono. Sanno come trattare i loro amici, no? Perché è scritto nel loro cuore di trattare gli amici come se stessi. Però i nemici li uccidono. Ma ti piacerebbe a te mafioso che il nemico ti uccida a te? Ah no, questo no. Quindi come vedi la legge è scritta nei cuori di tutti. Prima che avvenisse la legge di Mosè, la legge è scritta nei cuori. Come dice Romani capitolo 2, la legge è scritta nei cuori. Quindi vuoi dire di non amare Dio solo perché è richiesto che è scritto, ma amarlo con un cuore sincero, di propria volontà? All'inizio il bambino comincia con l'asilo infantile. L'handicappato sulla sedia a rotelle, il dottore dice beh la tua malattia può guarire un po' di esercizi. Allora arriva il dottore degli esercizi e lui questo per mesi e mesi si alza, si siede, si alza, cammina. Dopo un po' finalmente riesce a camminare. Noi siamo su quelle sedie a rotelle quando seguiamo la legge. Dio ha mandato Gesù Cristo per dirci, ebrei capitolo 8, capitolo 10, per scrivere la legge nei nostri cuori come Geremia aveva detto. Scriverò, disse Geremia, Dio attraverso Geremia, la mia legge nei loro cuori e nessuno dovrà insegnare al suo prossimo, dirgli conosci Dio, tutti mi conosceranno. Tramite Cristo, il nostro cuore e lo Spirito Santo. Amen? Amen. Allora, posso andare ai miei appunti? Sì. Nel nome di Gesù Cristo? Allora, appunto primo, numero uno, paragrafo uno. Un messaggio del Signore. Gesù parla, Gesù dice Mia amata figlia celeste, ti voglio benedire per ciò che il tuo cuore chiede, perché viene da uno spirito puro, un'anima che desidera amarmi come io, ti amo e desidero essere amato. Questo lo dico a te, Celeste, lo dico a te, Ilenia, e lo dico ad ogni mio figlio che mi cerca. Come chiunque altro, neanche a me, che sono il creatore, fa piacere di essere usato per tornaconto. Per questo mi sono appartato. Una chiesa che veramente mi ama, una chiesa che ho denominato Vergine separata, con olio, purezza e devozione, sposa con frutti e prescelta per tutta l'eternità. Come è scritto. Apocalisse 17, 14 Quelli che sono con lui i chiamati, gli eletti e i fedeli. Continua nella tua fedeltà, amato figlio e figlia, e vedrai, quando sarete qui con me nel mio regno, vedrete la differenza tra i miei figli che hanno scelto di mettere i loro talenti e fruttuosità per me e quelli che invece hanno scelto di fruttare per il mondo. Tu chiedi, come puoi crescere nel tuo amore verso di me? Amata, si cresce nello stesso modo in cui il mio amore cresce verso di te e di ciascuno di voi che mi cerca, verso ciascuno dei miei amati figli. Conoscendovi nel cuore, nello spirito, vedendo la vostra devozione per me. Romani 9, 13 Come è scritto. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esau. Vedendo la vostra devozione per me, il mio amore cresce per voi ed è così che cresce la vostra amore per me, vedendo il mio amore e le mie opere per voi. Io ho visto le opere dei miei figli Esau e Giacobbe che in allegoria rappresentano la mia fedele chiesa sposa e per contrasto la chiesa infedele. Scegliendo la mia prima genitura, Giacobbe, scelse me. Disprezzandola, Esau, spregiò e denigrò ambe due. Vedendo questo, il mio amore è cresciuto per Giacobbe, ma non per Esau. Allo stesso modo, il mio amore cresce per la mia chiesa fedele e sposa, ma non per la chiesa infedele. Il mio amore cresce per i miei figli fedeli fino a che la coppa trabocca e non posso fare altro che benedirli e chiamarli a mio fianco, come è scritto. Efesini 2, verso 4 Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Malachia 3, 17 e 18 Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Alleluia, grazie Signore. Gloria, gloria a Dio. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Amen. Cara Celeste e cara Ilenia, cari fratelli tutti che vi unite in questa preghiera, io anche io vorrei fare questa meravigliosa richiesta di Celeste e vostra, vorrei farla anche mia. Anch'io vorrei crescere il mio amore verso Gesù. Amen. Non solo a chiacchiere da qualche pulpito o con preghiera davanti alle telecamere, ma come fanno, per esempio, i religiosi mestieranti. A me mi è sempre ispirato a vedere come Gesù, a differenza delle religioni, perdona sempre i nostri peccati e questo e questo già questo ci aiuta a crescere nell'amore verso di Lui, cioè come ci innamoriamo di Gesù, vedere come ci ha perdonati. E ci perdona in continuo anche in modo che non capiamo logicamente, non ha senso che ci perdona, ci perdona, è così fedele verso di noi. Dov'è la religione al mondo che perdona tutto? Non esiste. No. Non esiste. No. Hai sbagliato, devi pagare. Nel nome della giustizia Gesù non è venuto nel nome della giustizia, è venuto nel nome del perdono, nel nome del suo sangue, nel nome di pagare i nostri peccati. Ogni religione al mondo, ogni stato giuridico al mondo, ogni qualunque religione, sbagli paghi, meriti l'inferno, occhio per occhio, dente per dente, ci sono religioni oggi, religioni grandi, un ladro gli tagliano la mano, la donna adulta la lapidano, viene Gesù, Giovanni capitolo 8, non ti hanno lapidata, no signore, non ti hanno uccisa, no signore, sei adultera, sì signore, ti meriti di essere lapidata, sì signore, ti perdono, non peccare più. Dov'è una religione così? Vero, sì. Gesù, a differenza di queste religioni, perdona sempre i miei peccati, i nostri peccati, al solo prezzo di, leggiamo, prima Giovanni 1, 7 e 9, prima Giovanni 1, 7 e 9, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. il prezzo per il perdono, camminare nella luce, 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, e purificarci da ogni iniquità. Perché amiamo il Signore? Perché il nostro amore per Lui cresce? Perché è al prezzo, al prezzo di una confessione, quindi un prezzo di crucifiggere la superbia, l'orgoglio, solo confessando i peccati, Lui è fedele e giusto e ci perdona. Ma al contrario, seguendo tutte le religioni, facendo tutte le opere buone, eccetera, se non confessiamo i peccati, non cambiamo, non siamo perdonati di niente, tutte le opere religiose del mondo, buone opere, non bastano al perdono del più piccolo peccato, ci vuole la confessione e l'abbandono. Al Signore non gli interessa niente, che va a pregare 4 Ave Maria, 8 eterno riposo, 16 salve Regina, e buonasera Regina, e 500 rosari, cosa vuole che gli interessi, cosa gli va in tasca al Signore se tu preghi mille rosari? Vuole che confessi il peccato, che smetti di maltrattare il fratello, che vai dal fratello, confessi il peccato, non dal confessore di professione. il Signore 4 Ave Maria, l'offerta è ciao, se confessiamo il peccato, la persona contro cui pecchiamo, allora lui è fedele, giusto, ci perdona, Giovanni 2, 1 e 2, primo Giovanni 2, primo Giovanni 2, parla di un avvocato, cosa fa questo avvocato? Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Le religioni oggi dicono, oh ma se tu, se tu frate Giuseppe ed altri come te prendono il perdono per tutti, che la salvezza non si può perdere, allora la gente se ne approfitta, sì lo ho, l'audicea se ne approfitta, le capre se ne approfittano, gli indegni se ne approfittano, i non salvi, i finti cristiani se ne approfittano lo stesso, ma il vero cristiano, quando vede che i suoi peccati sono perdonati, che Gesù la salvezza non se la riprende, il vero cristiano la sua fede aumenta, e il suo amore per Gesù aumenta. Luca 23, 39 a 43. Luca 23, 39. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Qui c'è uno, come diceva Celeste, che va con il carrellino per la spesa, Gesù dammi, 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 dammi e dammi, sei Cristo, allora salvami. Ah sì? Gesù non ha potuto salvare neanche se stesso dalla croce. 40. Ma l'altro lo rimproverava dicendo, non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. ecco la differenza qui, il caprone e la pecora, tipo l'audicea di là, la filografia di qua. Mi merito di essere qui crocifisso, mi merito questo, mi merito questo male, mi merito la malattia, mi merito di morire. Perché Gesù non ti guarisce? Io lo amo lo stesso, tu diavolo, stai zitto. Chiudi la bocca. 42. E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Questo qua cosa? È stato battezzato nell'acqua pentecostale? No. L'acqua battista? No, no. L'acqua dei cattolici? No. Che acqua è stata battezzata? No, nessuna acqua. Dov'è l'acqua magica che funziona? Niente. L'acqua era un simbolo, svegliamoci fratelli, fratelli religiosi. Va bene? Ecco qua. Oggi sarai con me in paradiso. Come si fa ad innamorarsi di un uomo così, Cristo Gesù? Oggi sarai con me in paradiso. Ma Gesù, sono qua con i chiodi nelle mani, non posso fare segno della croce. Oggi sarai in paradiso. Ma Gesù, sono qui crocifisso, non posso andare a cercare l'acqua. Oggi sarai con me in paradiso. Quindi questo religiosame che predica l'acqua, l'acqua, l'acqua è solamente una catena per legarti a una chiesa. Invece, il Spirito Santo, non lo predica. Perché il Spirito Santo non ti in catena, quindi non dà torna a conto a queste religioni morte. Battezzati in tutta l'acqua che volete. Anch'io battezzo nell'acqua su richiesta, spiegando che entri un pistola asciutta ed esci un pistola bagnato. Un fessacchiotto, traduzione. Va bene? Luca 7, 38,47. Luca 7,38. E stando ai piedi di lui di dietro piangendo cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribacciava i piedi e li ungeva con l'olio. Capito? Questa è l'immagine di Philadelphia. Leggi bene. non dice seduto sulla panca controllando che la panca è arrivata a 38 gradi temperatura corporea disse signore ho fatto il mio dovere ho scaldato la panca mi sono battuto il petto va bene ho dato l'offerta lì nel cestino dell'immondizia ho dato l'offerta e il signore mi merito no tu l'offerta devi darla è logico ma devi darla col cuore non perché ti darlo senza preoccuparti se torna conto si dà per amore e gli baciava e gli baciava e ribacciava i piedi dico una scena una scena questa qui che voglio andare a vederla non appena arrivo in cielo che già lo vedi già nei film Dio benedica Zeffirelli bellissima la sua scena gli irrigava le lacrime con le lacrime gli irrigava come dice cominciò a irrigargli di lacrime i piedi e li baciava e ribacciava a irrigargli con le lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e Gesù non dice cosa hanno fatto i farisei se quest'uomo era un profeta saprebbe che questa qui è una una peccatrice e i farisei lo dicono lo stesso io andare io ho protestanti andare in una chiesa cattolica oh 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 quelli là no perché io sono più santo di loro io protestanti in una chiesa cattolica non ci vado risponde il fariseo cattolico io in chiesa protestante non ci vado perché loro non credono alla Madonna io invece sì io credo Madonna e tutte le statue Madonna non esiste è una presa per i fondelli la Madonna c'è solo la madre di Gesù nella Bibbia la Madonna non esiste questa parola nella Bibbia non c'è e Gesù così fa alla fine del paragrafo salta al 47 appunto Luca 7 47 perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato qui abbiamo un esempio che l'amore ti perdona wow perché ha molto amato è bellissimo questo per me questo qui guarda non so dopo la resurrezione questa è la scena più bella di tutta la Bibbia dopo la resurrezione ma guarda questa donna quanto ha amato ha sfidato tutti che la bloccano non puoi entrare qui questo è un luogo santo peccatrice fuori di qui qui solamente i farisei e lei invece ha fatto vedere bene Zeffirelli nel suo film e lei correndo dentro gridando lasciatemi e si è buttato ai suoi piedi che scena ragazzi quindi qui mostra che anche se hai tanti peccati come una donna adultera se il tuo amore per Gesù è più grande di quei peccati sei perdonata puoi cominciare da capo e credo che quella quella è la chiave anche per vincere i nostri peccati spesso riceviamo riceviamo messaggi disperati non riesco a vincere questo peccato quell'altro peccato non posso non riesco sto cercando da anni prego faccio di tutto non riesco e credo che a volte non riusciamo a vincere questi peccati perché li amiamo amiamo i peccati amiamo il peccato ah ecco però se sviluppiamo un amore per Gesù che è più grande dell'amore di quel peccato allora abbiamo vinto l'amore vince il diavolo l'amore per Gesù se è più grande dell'amore per quel peccato abbiamo vinto dobbiamo solo sviluppare quell'amore per Gesù che lui merita lui si merita grazie Signore e allora vinciamo e siamo anche perdonati grazie Signore quindi se non sapete cosa fare amate 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 come questa donna perché ha molto amato amè sono andate a visitare questa famiglia che Dio vi benedica cioè ma insomma lei ha sbagliato ha commesso adulterio verso il marito sono tutti due fratelli sono andate a visitarli e insomma la casa è stata distrutta dopo perché abbiamo una relazione adulterina continuante con questo e disastro sopra disastro cosa ha fatto questa donna si è messa ad amare ad amare ad amare il marito e adesso lui l'ha perdonata ci ha voluto mesi sì sì gli ha detto guarda se devi picchiarmi picchiami ho sbagliato gli ha detto non essere però non trattami perché lui la ignorava in tutti i sensi mesi e ci mi è andata a trovarla e lei ha detto io gli ho detto al mio marito se devi picchiarmi picchiami accetto le botte ho sbagliato e ha continuato ad amarla ad amarla ad amarla e lui era innamoratissimo di lei una coppia bellissima giovane sì sì e alla fine lui si è sciolto mesi di amore mesi di amore lui ha visto il vero cos'è il vero pentimento cambiamento che non c'è più spazio per il diavolo ho imparato una lezione guarda Davide con baseba alleluia allora io voglio dire questo alle sorelle il nostro amore care sorelle per il Signore cresce come cresce l'amore per Gesù una cosa un modo per farlo crescere è solamente meditare su quanto Gesù ci ha amato quanto ha sofferto per salvarci e come ci perdona se riflettiamo su come Gesù è sceso è sceso dal cielo con uno scopo ci sono religioni che lo scopo è comandare il popolo di Dio con la spada il condottiero che guida il popolo di Dio no Gesù è sceso con lo scopo di morire dove è un'altra guida religiosa al mondo che ha fatto questo molti sono i profeti specialmente i falsi molti sono le guide molti sono i filosofi molti sono i grandi pensatori molti sono gli intelligentoni che sanno come mettere insieme delle parole che suonano amatevi aiutatevi eccetera anche oggi vanno le finestre con l'acqua santa vanno le finestre prediche prediche invece Gesù viene per morire viene per soffrire se riflettiamo su questo il nostro amore aumenta come aumenta l'amore per Gesù così come ascoltando la parola la fede cresce Romani 10 17 così riflettendo sull'amore di Gesù il nostro amore cresce quello che è fatto per noi il nostro amore cresce lo amiamo per come Gesù ha rinunciato alle benedizioni del suo regno per venire in questa terra una terra di pene di tormenti perché è venuto per costruirsi un grande pop una grande chiesa una chiesa più grande di quella che c'è a San Pietro e a Nova York no è venuto per morire è venuto per soffrire è venuto per caricarsi dei nostri peccati se non abbiamo capito questo non abbiamo capito niente del cristianesimo il cristianesimo non è meglio di quell'altra religione perché il campanile è più alto ma cosa ci interessa del campanile più alto è l'amore di Gesù che è superato che nessuno può avvicinarsi e molte guida religiose hanno fatto guerra e combattuto conquistato terra e ucciso nel nome del loro Dio che si chiama come si chiama Gesù è venuto invece con il suo amore ha vinto il diavolo ha conquistato il nostro cuore ha vinto il male questa donna è stata perdonata perché tanto ha amato Gesù ha conquistato i nostri cuori perché tanto ci ha amato tanto ha Dio amato il mondo che ha dato il suo ogni genito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna Giovanni 3,16 e allora noi lo amiamo per come Gesù come amiamo Gesù come cresce l'amore perché vediamo come lui ha rinunciato alle benedizioni del suo regno per venire in questa terra a soffrire e come dice il dolce fratello Paolo così dice Paolo Romani 5,6-9 Romani 5,6-9 cosa dice? infatti mentre noi eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi alleluia mentre eravamo senza forza che forza sta parlando la forza di Ercole di Sansone forza di amarsi forza di essere giusti forza di essere nello spirito di Dio di camminare rettamente eravamo deboli perché in che modo vivevamo nel peccato quindi senza forza di giustizia Cristo è venuto a morire per gente che non solo meritava chi erano questi qua? Io e te sette difficilmente uno morirebbe per un giusto ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue staremo per mezzo di lui salvati dall'ira l'ira quando Adam e Eva hanno messo sul trono di Dio il diavolo Satana questo ribello questo sabotatore hanno fatto un colpo di stato i colpi di stati di oggi sono tutti vengono tutti da lì hanno fatto un colpo di stato erano in tre chi erano Angela? Adamo Eva e il diavolo in tre erano tre tipi che hanno fatto un colpo di stato quei due fessi hanno creduto a Sadio e dice diventerete come Dio ma lui è un bugiardo non diventi come Dio oggi l'uomo dappertutto vuole essere Dio ma entrano in ospedale certi dottori grazie a Dio non tutti certi dottori entrano in corsia come se entrasse Dio con la pattuglia di la pattuglia di come si chiama di studenti dietro prendere appunti e lui cammina come Napoleone grazie a Dio che non sono tutti così il paziente il paziente deve avere pazienza lui è lì è lì come è lì ti diremo se vive o se muore andiamo al laboratorio con il microscopio ti faremo sapere se muore o no e lui dice in attesa ecco torno a dottore mi dico dottore brutta notizia alleluia eravamo figli di ira destinati alla giusta morte ma il nostro amore cresce però nonostante questo quando pensiamo come Gesù a come Gesù ha scelto di nascere in questo mondo con il preciso scopo di sostituirsi a noi prendere il nostro posto e subire la nostra punizione Gesù è venuto non per essere un grande popolare leader no è venuto per farci da scudo per frapporsi tra noi e il dardo mortale del maligno che ci avrebbe portati all'inferno con lui il dardo del peccato qual è il trucco del diavolo ci fa amare il peccato ci fa amare la pornografia ci fa amare la droga ci fa amare la cattiveria e allora e allora obbliga Dio a punirci come vediamo in numeri capitolo 12 e in capitolo 22 leggetolo bene Balam siccome non poteva maledire Israele in cambio di soldi stregone Balam quello cosa ha fatto allora ha detto a Balak il re di Moab dice porta leggete il numero 22 23 24 capitoli lì gli fa Balam a Balak non c'è scritto lì ma ha fatto così ha detto porta invita Israele al tempio a mangiare il cibo del sacrificato degli idoli e lì quei tempi pagani c'erano le prostituti templari tu andavi lì adoravi quegli idoli e le donne tipo potevi andare a letto con una donna e allora mangiamo e bevevano e si prendevano queste donne e il signore dice ma che cosa accidenti state combinando avete capito niente e allora il signore li ha puniti migliaia sono morti per questo quindi siccome il diavolo non poteva non poteva maledire Israele attraverso Balam perché perché cercava di maledirli ma la benedizione gli usciva dalla bocca e lui dice allora facciamo così guarda invitiamo ad avere sesso con le prostitute del tempio e così Dio le punisce quindi hanno tramutato Dio in un burattino nelle loro intenzioni facciamoli pecare e per seconda legge Dio Dio li punirà vedi come siamo furbi io incazio i tuoi soldi abbiamo 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 reso Dio una marionetta che punisce quando noi vogliamo basta tentare Israele va bene e così fa il diavolo anche oggi Gesù ha dovuto morire sul calvario perché il diavolo ci guida a peccare e quindi questo obbliga Dio a punirci e allora Dio cosa ha dovuto fare la sola via era venire qua a morire a nostro posto prendersi il castigo dei nostri peccati morire a nostro posto e finalmente ci può perdonare e noi branco di disgraziatoni ancora non abbiamo capito cosa succede nello spirito facciamo fatica ad amare il Signore perché ad amare il Signore non posso amare un idolo o hindù e chiede all'idolo hindù che ti aiuta con il coronavirus chiede all'idolo hindù che quando c'è un problema con la moglie vuoi divorziare ti soluziona chiede all'idolo hindù o a qualunque altra religione che quando si è depresso oppresso abbattuto triste scoraggiato sull'orda del suicidio che venga ad aiutarti dov'è quella grande religione il grande Dio di quella religione che ti appare e ti dice cosa devi fare cosa non devi fare dov'è lo Spirito Santo nel tuo cuore vedendo queste cose il nostro amore cresce o dovrebbe crescere ma solo se meditiamo una pecora è un animale che deve ruminare rumina se noi non ruminiamo il cibo che mangiamo l'erba verde qual è l'erba verde? la parola se non la ruminiamo come si traduce ruminare nella Bibbia meditare se non meditiamo leggimi per cortesia Gesù è 1.8 se noi non meditiamo la parola e loro non abbiamo capito niente se meditiamo per questo dobbiamo distogliere gli occhi dalla televisione dall'internet da tutte quelle belle donne uomini che alla sera vai a dormire siete abbracciati con tua moglie e pensa e pensa a quell'altra donna più giovane più sexy mettete gli occhi su Gesù fratelli cosa dice quella scrittura sul meditare Gesù è 1.8 questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai va bene dice giorno e notte giorno e notte e dice la mattina il pomeriggio alla sera se ti svegli le 4 del mattino medita sul Signore su quello che ha fatto su come ci perdona su come ci protegge su come ci fa scudo dal diavolo ci fa scudo dai nostri peccati e allora il nostro amore potrà solo crescere infatti è questo amore amare Dio con tutto noi stessi è questo amore che ci protegge dalle tentazioni e dai peccati esatto l'amore per Gesù è il nostro scudo ci protegge dall'amore verso il diavolo gli dici io non amo il diavolo si ammi la sua pornografia ammi i suoi film ammi il suo internet ammi il suo il suo comportarsi male ogni volta che maltratti la moglie sia pure il marito stai stai perpetrando mettendo in pratica la parola di Satana cosa vuole Satana? che tu odi la moglie il marito la famiglia i figli il diavolo vuole che voi figli vi ribellate ai genitori e perché? perché questo ha fatto lui contro contro Dio e questo se meditiamo su questo ora lo amiamo a Gesù questo questo sorge quando vedo quello che mia moglie fa per me tutti i giorni mio amore cresce per lei mio amore per mia moglie cresce tutti i giorni in continuazione vedo quello che fa perché c'è una moglie grazie a Dio che ama il Signore ma non è perfetta no non è perfetta è una peccatrice sì come me come tutti però il suo cuore è lei cerca di seguire Gesù mio amore per lei cresce quando vediamo quello che il Signore fa per noi tutti i giorni va bene a svegliere la mattina guarda l'alba ma io a Milano e piove guarda la pioggia serve anche la pioggia va bene il tuo amore cresce pensa che se la pioggia non cadesse come fanno i contadini alleluia gloria gloria al Signore dunque leggimi una citazione lei dice molto bello quello che lei dice dice non si può neanche avere con Gesù un legame non si può neanche avere con Gesù un legame di paura paura di andarci all'inferno paura della morte della malattia eccetera o avere un atteggiamento da schiavo una sottomissione strategica per cercare di ottenere qualcosa cioè strategica questo mi conviene quello no brava bravissima Celeste guarda io dico questo ci sono religioni che inculcano il loro tipo di fede cioè praticamente deve avere fede nel loro Dio solamente perché Dio è il loro Dio e se esiste è suppostamente grande onnipotente quindi la paura che lui ti punisce c'è una religione che vanno seguendo il loro Dio per paura un Dio padrone che alla fine deciderà se le opere di ciascuno sono sufficienti per evitare l'inferno è tutto lì le religioni sono così va bene e quindi non sai mai se le tue opere bastano temono questi Dei Dei che non li conoscono chi li segue non li conosce personalmente sono troppo in alto infatti sono così in alto che non esistono neanche infatti non li conoscono personalmente come noi conosciamo Gesù che lui adesso e dove è adesso Gesù? Galati 4.6 dentro nei nostri cuori Galati 4.6 qual è la religione che dice c'è Dio nel mio cuore ma non puoi neanche avvicinarti il tuo Dio che non esiste è troppo in alto troppo qui troppo là ma dov'è? l'hai visto? ha avuto un'esperienza? no e allora? io invece Gesù ho avuto un'esperienza quindi sono popoli che neanche sanno con certezza se questi Dei esistono consideriamo specialmente se consideriamo la seguente scrittura secondo Corinzi 11.14 secondo Corinzi 11.14 non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce va bene noi aspettiamo tutte le religioni aspettiamo noi facciamo neanche nomi così almeno non ci mettiamo nei guai con internet va bene che qui siamo sotto binocolo noi li controllano quei cannocchiali e quei telescopi e allora lasciamo così buon intenditor poche parole d'accordo? in un mondo con milioni di idoli e dei diversi di dei diversi solamente in India 330 milioni ce ne hanno uè non è che manca la scelta io a volte andavo a evangelizzare di porta in porta in India caro mio entravi in certe case entravi dentro era come un templo un tempio caspita ragazzi caspiterina ogni angolo tutto uno scenario animali serpenti l'uomo l'uomo con la testa dell'elefante la scimmia sacra l'elefante la vacca sacra infatti guarda onestamente io in queste case entravo sentivo uno spirito di una stalla adorano gli animali sentivo animali sentivo proprio cioè sono demoni che sembrano proprio sembrano così sembrano animali e allora se ci sono 330 milioni di religioni di idoli almeno in India per non contare il resto del mondo cioè non si ha l'impressione che qualcuno ha religioni di troppo cioè noi la domanda è perché amiamo il Signore come si cresce nell'amore per il Signore si cresce che Dio non è venuto a portarci 300 milioni di religioni confusione è venuto a mostrarci il suo amore questa è la vera religione è l'amore amiamo il Signore perché è venuto a mostrarci cosa ci ha mostrato Gesù ci ha mostrato il vero Dio Giovanni capitolo 1 credo 17 dice nessuno ha visto mai Dio Gesù Cristo ce l'ha fatto conoscere Dio è troppo grande come fa noi siamo più piccoli dei microbi come fa il microbo a vedere il corpo non può e allora Gesù si è fatto un microbo ha assunto il sembianzo umano così che noi zucche dure i microbi dalle zucche dure possiamo relazionarci possiamo capirlo è venuto a parlare la nostra lingua e la parla ancora quando tu profetizzi quando tu ti dà il messaggio di Gesù è una persona e spero che lo fate chiunque cristiano ha in sé lo spirito di profezia profetizzate fratelli come fa a sapere se è giusto controllate con le scritture è facilissimo quando viene il pensiero prima che lo metti a parole subito un attimo ci vuole un flash è scritturale se conosci la Bibbia lo sai vai profetizza è scritturale e poi Gesù ti darà anche messaggio di cose a venire viene l'anticristo viene la tribolazione vengono le malattie fuggi fuggi nel deserto fuggi vai nel rifugio Gesù ti dirà se devi stare andare magari in Europa uscire te lo deve dire lui alleluia alleluia grazie signora quindi amiamo Gesù perché è venuto a mostrarci che Dio è amore e come l'ha fatto Gesù crediamo in Gesù per fede non crediamo in Gesù solo per fede ma crediamo anche per ragionamento perché che ci crediamo o no Dio ci ha dato anche un'intelligenza anche se non si vede molto in questo mondo Gesù ci ha fatto ci ha mostrato il viso di Dio dandoci la prova tantissime prove va bene adempiendo tantissime profezie ogni adempimento è una prova che Dio esiste abbiamo detto più di 330 profezie adempito ognuna di quelle è una prova che Dio esiste solo Dio può adempire una profezia va bene Gesù ha portato la sua luce in queste tenebre ha portato la sua verità in un mondo di bugia ha portato la sua salvezza in un mondo di morte ecco perché lo amiamo va bene ecco perché il nostro amore cresce cresce perché Gesù ci ha fatto capire che lui non è una religione neanche attenzione neanche una religione cristiana Gesù non è una religione cristiana tra l'altro ormai le religioni cristiane sono diventate quasi tutte pagane ci ha mostrato che Dio il Dio vero non è religione il nostro amore quindi cresce anche per questo motivo e se meditiamo su questo crescerà il nostro amore crescerà ogni volta che vediamo una persona che si salva che guarisce da malattie che viene liberata da spirito e dal maligno e riempita da battesimo dallo spirito santo è vero quello è essenziale credo cioè metterti nel servizio del Signore e vedere i miracoli che lui fa e le vite che cambia e ti fa amarlo sempre di più però se rimani passivo e non ti attivi nel servizio per Dio forse ti sembra noioso essere credente essere cristiano ma se tu ti dai da fare e vedi vite cambiate davanti ai tuoi occhi wow il tuo amore cresce per Gesù è vero è vero grazie Signore quindi se l'amore per Gesù non cresce è colpa nostra perché noi stiamo meditando sulla bontà di Dio perché uno perde l'amore per la moglie è perché sta guardando la moglie degli altri no? ogni donna che vedi nelle tue pornografie è sposata con qualcuno o c'è un amante o c'è un magnaccio o c'è un qualche criminale che che la sta usando no? appartiene a qualcun altro nel bene e nel male è logico che se guardi la donna degli altri tu non puoi crescere l'amore verso tua moglie ma mia moglie sai c'è 70 anni 80 anni vabbè tu vecchio bacucco quanti anni hai tu? 80 anni allora vuol dire che 50 anni che sarà meno 50 anni che ti sopporta razza di egoista che non sei altro marito moglie quello che è sì 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 io devo sempre parlare dal punto di vista del marito no no succede anche alle donne ma voglio dire questo che quando succede per esempio io voglio amare Gesù con tutto il mio cuore voglio però non sono costante ci sono giorni quando sono distratta e non do a Gesù l'amore che lui si merita quando mi sveglio dal mio torpore diciamo ho imparato che devo correre da Gesù dalla tua delusione dalla delusione ho imparato che non devo non devo stare giorni dopo giorni autocondannarmi chiedere perdono mille volte perché mi sento così colpevole perché questo è un altro gioco del diavolo quando ti rendi conto che hai sbagliato corri da Gesù e comincia subito ad amarlo come lui si merita essere amato don't postpone non posticipare no start right away se hai sbagliato comincia subito ad amarlo perché rimanere lì in autocondanna è solo il diavolo che vuole allontanarti ancora di più da Gesù grazie Gesù cominciare subito ad amarlo benissimo grazie che così ho preso fiato vai avanti Angela ti predichi bene potresti essere una pastoressa di qualunque chiesa simpatica diciamo chiunque ti ascolterebbe perché sono parole di miele grazie Signore grazie Gesù che mi insegna cose però sto ancora imparando gloria gloria Signore chi altro scrive dice ho anche capito che il creatore cosa che dice Celeste dice ho anche capito che il creatore non si può usare come un bancomat si mette il codice e si ritira cioè si mettono le preghiere ripetitive con la bocca e si ritira il desiderio esaudito hai capito cosa dice sta dolce sorella dice ho capito che il creatore non è un bancomat che va lì clic 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 e arrivano i soldi prendi la Bibbia quattro preghiere due rosari un po' d'acqua santa una panca scaldata clic clic e adesso benedicimi perché col mio di dietro ho scaldato la panca e non è così la storia quello lì è l'audicea va bene chiunque qualunque cristiano che la sua fede è solamente da scaldare una panca è l'audicea automata non so neanche se sono cristiani infatti conosco uno che predica da una finestra che sicuramente non è cristiano anche se c'è tutto il vestimento del circo aquest c'è il cappellino c'è tutto ma quello lì quello lì la fede cristiana l'ha visto con un sai quei cannocchiali che puoi guardare i pianeti ma neanche con quei cannocchiali l'ha vista e ci sono ci sono ci sono come ha detto Gesù in Matteo 7 15 16 guardate da falsi profeti riconoscete i loro frutti queste chiese a mezza morte si sono scelti dei capi che sono più morti di loro i capi rappresentano sempre quelli che li votano è inutile prendersi con Hitler ma prendete con i tedeschi non con Hitler italiani i musolini ma prendete con gli italiani fascisti che l'hanno messo Mussolini va bene il leader di solito va bene che Hitler è stato eletto non è andato Hitler non ha violentato nessuno non ha fatto colpo di stato il musolino ha fatto un finto colpo di stato nessuno si è opposto perché lo volevano in poche parole e quindi il popolo se l'ha evoluto infatti vedi che la bestia l'anticristo in Apocalisse 13 posso raccogliere a little days divagare un pochino posso fare una parentesi con il tuo permesso Apocalisse 13 la bestia l'anticristo sorge dal da dove sorge dal mare dal mare l'apocalisse 17 15 dice che che il mare sono i popoli e le nazioni le acque dove la donna la prostituta siede sono nazioni popoli lingue va bene quindi l'anticristo sorge dal mare verrà dal dai dal popolo dai popoli i popoli lo vorranno va bene l'Europa vuole un leader che possa discutere con Erdogan tu per tu perché sono tutti effemminati a Bruxelles quando Erdogan picchia pugno sul tavolo le effemminate di Bruxelles scafano di notte e di giorno non sanno non ti arrabbiare ti baciamo subito i piedi vogliono uno che dice così è così vogliono uno un maschiaccio che sappia rimproverare l'America che sappia rimproverare i prepotenti e questo maschiaccio sarà il diavolo va bene non hanno voluto il maschio di Dio Gesù Cristo prenderanno il maschio del diavolo va bene chiuso parentesi sì ma la consenti questo dicono di vagare sì alleluia grazie Signore quindi tornando appunto che le diceva che non si può usare Dio come un bancomat vada e la risposta a questo è vero è verità Dio ti benedica Celestina Dio non è un mago Dio non è un supermercato che devi andarci solo quando il carrello è svuotato la dispensa è vuota vai a riempire il supermercato paghi va bene e quel supermercato te la fa soldi dice grazie che sei venuto Dio non è supermercato va bene Dio non è uno che ci va solamente quando ti serve una guarigione come una farmacia Dio non è una farmacia devi guarire una malattia ho bisogno di liberazione da spiriti liberazione da maledizioni ho bisogno e adesso divento cristiano a volte c'è gente che ci chiede liberazione ci chiede che non dormono la notte hanno armati che si aprono la luce si accende e si spegne da sola di notte si è accesa la luce del bagno chi l'ha accesa e succede frequentemente è un demone che va in giro a torturarli e allora ci scrivono mi pento di tutto sono qua pronto si io ricevo Gesù si certo tutto e vengono anche liberati poi spariscono spariscono capite aspettano che quando hanno ancora bisogno di Gesù quando avranno bisogno torneranno come dei bravi clienti capite i clienti col carrello è per questo che i diavoli tornano Gesù ha guarito i dieci lebrosi e quando sono tornati a ringraziarlo uno uno e cosa ha detto Gesù ah benissimo non è importante che voi siete che ringraziate non c'è bisogno che siete grati perché io vi amo no 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 cosa ha detto Gesù e dove sono gli altri ma io non ho guarito i dieci e dove sono gli altri nove quindi ragazzi quando venite a cercare guarigioni liberazioni che siete sotto maledizioni finanziarie che siete sotto maledizioni in case nella casa nel lavoro sì noi siamo sempre pronti a pregare per voi e siamo molto grati per i fratelli che sono grati a Gesù non è che è grato a me anche a volte mi fanno un sacco di storie Giuseppe qui Giuseppe là adulazioni lusinghe dico calma volete veramente ringraziare sì perché qui perché là e allora cominciano a ringraziare Gesù e per te Giuseppe è conciato peggio di te se non fosse per Gesù come si fa a ringraziare Gesù aiuto aiuto e dando il cuore a Gesù come si fa a ringraziare Gesù amandolo cosa dice Gloria amandolo meglio che non è poco amandolo meglio di più che amandolo dando tutto il cuore tutta la mente tutta l'anima sì giusto ubbidendo i comandamenti cioè andare alla ristruzione per anticapati capisci uno che non ubbidisce ai comandamenti non è neanche anticapato è sotto l'handicap capito già anticapato sei a un livello che puoi imparare ma uno che non cerca neanche di ubbidire ai comandamenti è peggio degli anticapati perché la legge di Mosè anche la legge del Vangelo sono per i anticapati perché la legge del Vangelo è tutta una parola qual è la parola? ama l'amore quindi se l'amore non ci motiva a seguire i comandamenti se non seguiamo i comandamenti per amore non per paura dell'inferno io non voglio andare all'inferno io voglio essere la sposa non puoi neanche seguire i comandamenti perché vuoi essere la sposa perché? perché è legalismo adesso vado a amare le pecore per le strade perché è scritto ciao come perché è scritto? adesso oggi vado da mia moglie e gli do 24.000 baci perché è scritto? perché a me non vi cucina ciao Debra eccola là ti benedica Debra puoi salutare i fratelli? è timida è lei via tirarlo con la gru mia moglie ci vuole la gru elettrica eccoci ciao Debra ciao fratello e ciao a tutti i fratelli tanto amore Dio è buono e l'odio a Dio non è male che Debra viene a parlare a radio lei è la più timida di Danimarca ragazzi capito? se dovessi pagarla per parlare a radio i miei soldi non mi basterebbero se dovessi pagare per parlare a radio non avessi abbastanza di mani perché lei proprio proprio c'è gente che vuole fare messaggi in mostra andare in tv alla radio eccomi eccomi qua sono qua battete le mani Debra proprio non gli passa neanche per niente io so cosa sta pensando sta pensando quando è che posso andarmene e se è capitato male ti è capitato un predicatore dice che no non gli è capitato male e la cosa buona perché gli puoi predicare sì però non è che però a volte quando siamo là da soli che io sto magari preparando un messaggio così tu dici buonanotte ogni tanto ho capito tutto ci vediamo domani perché a volte è mezzanotte alla una del mattino dipende dipende quando viene l'ispirazione sì Debra ma sai che bel messaggio questo qua sì tesoro a volte sì però a volte sì confessa le confessioni di Deborah non sarebbe stato meglio un marito introverso non sarebbe stato meglio un marito introverso non sarebbe stato meglio non no no nella mia scuola c'erano un paio erano due insegnanti e erano così che non parlavano solo quando avevano di insegnare Angela era una coppia sposata facendo una gara non parlare essere timidi ma il signore quindi sono contenta che esisti ringrazio Dio sì la signora è sapendo che io così sono così così eccetera e allora ha preparato confezionato ha creato una donna perfetta che tranquilla mi dà tutto lo spazio che voglio sai che volte moglie e marita li dicono su chi parla no parlo io no parlo e qui non c'è questo problema oh I love you I love you too bless you no bless you I love you traduci no I can't go adesso posso andare I love you so you can go back to the point there are more important things here to talk about ci sono cose più importanti di parlare ma tu sei importante tu sei importante no 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 God is Dio è importante translate I got it God is God is I got it I got it very good well that's it yes thank you love you lei quattro baci e ciao cioè le danesi sono donne veloci poche chiacchiere va bene è già fuori è già nella stanza attigua e là che è tutta tutta condigia ce l'ho fatta è già seduta vicino a John Dio ti benedica Deborah mi fa segno dice vai 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 togli l'attenzione da me no è veramente certe cose siamo proprio l'incontrario grazie signora lei sangue fredda sempre sempre freddolina infatti mi fa ghiacciare questi piedi e io c'ho sangue sghiacciare sangue caldo mi usa come una borsa d'acqua calda mi usa come calorifero anche ieri e sto mi fa segno ma cosa stai raccontando tante donne sono sangue fredda ma è per questo che hanno un marito dice cosa serve un marito se non per scaldarlo senti possiamo tornare al punto per cortesia prima che fratelli ci mandano qualche qualche email allora dicevi che non possiamo usare Dio solo quando abbiamo bisogno di una liberazione o qualcosa da Lui quello non è amore sincero è vero e siamo rimasti lì perché ci resta detto che il creatore non si può usare come un bancomat esatto grazie Gesù sì parlavamo di quello infatti siamo arrivati alla fine del messaggio qui c'è l'ultimo paragrafo l'ultimo appunto mi è rimasto grazie Signore ti benedico Gesù grazie grazie Signore Signore benedici Deborah grazie che è sempre pronta a venire e a scappare grazie Gesù alleluia c'è Deborah che mi manda occhiare diciamo ma no Deborah le sorelle e i fratelli sono molto comprensivi io credo che ti amano tanto fratelli potete mandare qualche messaggio ha detto anche io li amo dai ragazzi mandate qualche cosa per Deborah lei non predica ma ama molto il Signore veramente è per questo che io vado avanti come faccio la mia età buona a nulla ragazzi se non avessi una comunità intorno che mi sostiene ah grazie pregate benedite i nostri fratelli qui della comunità sono molto dolci grazie Signore allora il punto era non possiamo andare da Gesù solamente quando ci serve è capito qualcosa il nostro carrello è vuoto e per questo che il mondo ateo va dove dov'è che va il mondo ateo va da maghi va da cartomanti perché non hanno un Gesù come il nostro che profetizza che guida e loro vanno dalla maga d'Egitto la maga la cartomante che le carte devono dirti se devi sposare quella donna se devi fare quell'operazione di affari investire quei soldi investire in borsa magari qualche numero dell'otto vabbè questo è un satanismo fratelli non vi azzardate a fare queste cose per cortesia purtroppo molti trattano Dio in questo modo vanno solo quando hanno bisogno come da una cartomante non si va da Dio cioè quando anche fratelli che ci chiedono preghiera non vi offendete ma noi vi diciamo prima di chiedere preghiera e noi come strumenti intercessori va bene d'accordo siamo sempre pronti ma ricordatevi che il punto non è essere guariti capire il Signore non gli costa niente a guarirvi lui guarisce ma il punto è com'è che il diavolo vi ha conciato in quel modo e la Bibbia dice che se non cambiamo i diavoli tornano Giovanni 5,14 Matteo 12,43 i diavoli tornano se non cambiamo se non se tu non capisci tu marinaio se non capisci da dove viene l'acqua che la nave la nave la nave infiltra acqua ma se te cosa continui col secchio a buttare acqua fuori venite qua a essere liberati ad essere benedetti e cacciare i demoni e così buttiamo l'acqua fuori bordo no devi capire da che parte è entrato il diavolo va bene così che non torna di nuovo andare a parare turare riparare chiudere la falla nella nave e dopo con calma butterai fuori l'acqua te che sei lì così presa a buttare l'acqua il diavolo non se ne va ho pregato non se ne va ho pregato però la notte viene e mi da fastidio il diavolo non mi fa dormire e i miei figli sono ribelli i miei genitori non mi amano mia moglie eccetera stai buttando acqua fuori dalla nave col secchiello devi andare dentro a scoprire dove caspita sta entrando quest'acqua va bene e devi lavorare su quello sulla falla c'è un'infiltrazione quando viene l'idraulico che chiamate l'idraulico signor idraulico buongiorno qui sto rubinetto perde l'idraulico cosa fa non è che mettono uno scotch speciale e ferma l'acqua no va a scoprire da dove viene quest'acqua allora smonta qui smonta là smonta sono qui grazie signor l'idraulico l'idraulico ha scoperto qual era il problema il dentista non è che ti dà una spruzzata di alcol sul dente che ti fa male una pomatina contro il dolore no ti prende il trapano bosch punta numero 12 ti fa un buco va alla radice fino a arrivare i fratelli dentista sanno come fa la cosa ci vuole un trapano va bene andare dentro piccone pala va bene e buttare fuori tutta la carie a volte anche devitalizzare un dente tirare fuori tutto quanto anche il nervo finalmente si mette la medicina si mette il cemento un po' di malta un po' di calce un po' di calcestruzzo non so che adesso cosa uso i dentisti mi mettono un po' di un po' di intonaco sopra va bene il dente è a posto cioè Angela diresti che sarei un buon dentista io? ti fideresti di me? no perché un dentista non può essere solo spirituale sorry capite Angela non è molto convinta che sarei un buon dentista quindi vabbè fratelli preoccupate io spaventate mia professione è un'altra insomma sto cercando di dire si va alla radice alla radice del peccato da dove è entrato questo diavolo che la notte di da fastidio che gli armati si aprono si chiudono la luce si accende si spegne tuo marito è così tua moglie cosa ha i figli sono così va bene da dove è entrato state leggendo la bibbia tutti i giorni si siete venuti da frate Giuseppe o dalla sorella Giovannina che guarisce gli ammalati bene andate tranquilli e adesso sei guarito cosa fai torna alla tua televisione al tuo egoismo a trattare la moglie così il marito cos'ha e sempre parolacce e diavoli torneranno pronto frate Giuseppe io vorrei un abbonamento per la liberazione se mi puoi liberare una settimana fino a settimana no frate Giuseppe sono qua ma perché non ha detto Gesù una volta nel Vangelo ma perché voi per conto vostro perché non giudicate voi cose giuste e sbagliate ha detto Gesù una volta giudicate voi va bene sempre dipende dall'idraulico ma state attenti come girate il rubinetto l'idraulico ha detto una volta il motivo che questa guarnizione si è consumata è perché voi stringete il rubinetto come strozzare come strozzare una gallina non dovete stringere il rubinetto che ci vuole la chiave inglese per aprirlo dovete chiuderlo delicatamente la guarnizione fate di gomma stringelo strozzi questo rubinetto dopo che l'hai fatto duemila volte la guarnizione è partita e lui infatti sta cercando di convincere la mia squadra quando chiudete i rubinetti chiudeteli dolcemente avete capito su che quadrate tutti dicono di sì domani torno là e c'è questo rubinetto che vale la pena di scoprirlo e loro chiamo ma lo volete capire che i rubinetti non si stringono troppo va bene meno male che sono l'uomo più paziente del mondo virgolette va bene quante volte mi hai sentito dire queste cose e altre sì è vero sì e allora ragazzi il punto che voglio fare qui la conclusione sia andiamo da Gesù per la guarigione andiamo da Gesù per la liberazione sì 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 ma quando siamo liberati e guariti cerchiamo di cambiare vita cerchiamo di scoprire perché c'è un problema in famiglia nel matrimonio con i figli col lavoro nella chiesa comunità tutto perché scoprire da dove entrano i demoni e chiudere quella porta nella nostra vita scoprire che brutte abitudini che abbiamo scoprire cos'è che non facciamo giusto alla mattina quando ci svegliamo i nostri pensieri sono per il mondo o per Gesù stiamo puntando la sveglia mezz'oretta prima per avere tempo per leggere la parola no devo scappare devo correre corri e cosa corri 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 e non arrivi mai da nessuna parte svegliati un po' prima punta quella sveglia alla sera non essere imbambolato non so cosa fai la sera vai a dormire presto la sera addormenti e dico la parola che Gesù ti parla scrivi Gesù ti dice questo è sbagliato questo è giusto se obbidisci vedrai che il diavolo comincia a vincerlo meglio finché sei liberato se io vedo al dentista quanto zucchero stai mangiando che cibo mangi si crediamo nei miracoli ma crediamo anche di cooperare con il Signore cercate di mangiare cibi salutari non mangiate immondizia patate fritte patatine e bevete qua e là vai a fare vai da benzinaio con una macchina a benzina metti dentro il diesel vai metti che rosene costa meno vai vai e lo stesso quando mangiamo attenzione cosa buttiamo dentro nel serbatoio usare saggezza va bene e allora voglio dire che pochi oggi camminano come pochi credenti camminano come sposa di Cristo camminano come credenti però ognuno crede a modo suo no cioè non c'è il mio modo di seguire Gesù il modo di Angela il modo di la Chiesa dello Spirito e della Chiesa protestante c'è il modo del Vangelo il modo di Gesù non c'è altro modo di essere cristiano può cambiare la personalità il modo di seguirlo ma seguirlo si deve pochi hanno relazioni con Dio e quindi non lo conoscono non distinguono la voce di Dio però se solamente invochiamo con tutto il cuore Dio ci darà suo Spirito Santo e allora conosceremo allora il nostro amore per lui crescerà e torniamo a Matteo 22 perché allora potremo adempire il comandamento non per legge non per paura di essere di essere puniti ma per amore Matteo 22 37 39 di nuovo per favore e questo è il messaggio Matteo 22 37 a 39 Gesù gli disse ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente questo è il grande e il primo comandamento il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso amè grazie Signore grazie Signore abbiamo finito dove abbiamo cominciato e finiamo dove terminiamo dove abbiamo iniziato però voglio dire che la cosa che mi ha piaciuto di più è all'inizio quando hai citato quella profezia che il Signore ti ha dato quel messaggio da Gesù dove Gesù dice tu chiedi come puoi crescere nel tuo amore verso di me si cresce nello stesso modo in cui il mio amore cresce verso di te e ciascuno dei miei amati figli conoscendovi nel cuore conoscendovi nello spirito e vedendo la vostra devozione per me qui credo è la chiave per per amare di più il Signore per crescere nel nostro amore verso di Lui conoscendolo nel cuore a Gesù conoscendo il suo modo di pensare il suo carattere non puoi fare altro che amarlo perché è incredibile è meraviglioso e più che la tua mente può comprendere è super in una parola meditare conoscendolo davvero conoscendolo nel cuore meditare e lo conosci dalla parola perché la parola è Gesù tu quando sei fidanzato una ragazza è innamorata di te cioè se è innamorata veramente la sua mente è su di te è innamorata di te sì 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 come una ossessione pensi sempre due innamorati due innamorati che si amano veramente fidanzati io mi ricordo parlavo con una mamma che aveva un figlio che era fidanzato e non so si parlava di questo e di quello e gli ho detto ah dove è adesso e gli ho detto ah guarda ogni cinque minuti libero ogni piccolo tempo libero è sempre da attaccato incollato dalla fidanzata questo è amore vero sì sì durasse così l'amore nei matrimoni va bene questo è l'amore che Gesù ha per noi va bene va bene i pensieri la Bibbia il Salmo dice che i pensieri di Dio per noi sono più della sabbia o più della più della sabbia mi pare che dici sì sabbia va bene i pensieri di Dio per noi sono più della sabbia più dei granelli di sabbia va bene e quindi e noi invece siamo qua l'internet la pornografia e l'egoismo i soldi il lavoro il coronavirus il diavolo virus le paure preoccupazioni e ogni tanto andiamo a scaldare una panca in chiesa speriamo che non siamo di questi e poi dice io sono credente perché io pratico la cosa pratica è scaldo le panche sono un panchiere ci sono i banchieri sono i panchiere delle panche scaldano ragazzi per cortesia cerchiamo di non andare da Gesù solamente quando ci serve una liberazione una benedizione dei soldi va bene andiamo da Gesù quando non ci servono le cose questo è amore il Signore non è come i false religioni che vogliono un branco di schiavi sotto di loro noi siamo schiavi del Dio eccetera no no Dio si è fatto toccare venuto qui Gesù è venuto e si è chiamato amici ma Giovanni XV io vi chiamo amici non vi chiamo più servi parola servus vuol dire schiavo non vi chiamo più servi vi chiamo amici e questa è l'unica religione dov'è una religione che Dio dice vi chiamo amici ma neanche per il sogno dicono se sbagli all'inferno se sbagli ti taglio la mano se sbagli ti cavo un occhio occhio per occhio dente per dente roba da vecchio testamento da Mosè legge mosaica a quei tempi era giusta perché la gente non capiva altro asilo infantile a quei tempi c'era ma da Gesù in poi ecco che il popolo di Dio matura è lì che il popolo ebreo non ha voluto maturare è voluto rimanere all'età dell'antidiluviano all'età della pietra per questo che gli ebrei ancora sono conciati male non hanno fatto il salto di qualità passato dalla legge obbligatoria guai a te occhio per occhio se non lo obbedisci e passare alla legge di Cristo per amore per il perdono niente il mondo non vuole Gesù vuole il bastone e il bastone avrà si chiama Armageddon Angelina voglio chiederti una domanda posso? sì allora benedica fratelli preghiamo insieme su questo due parole di preghiera prima di andare ad Angela Signore Gesù Angela pregate con noi Signore Gesù aiutaci a crescere in amore Signore preghiamo insieme fratelli Signore Gesù Signore aiutaci a crescere in amore per te Signore così bello Signore tu sei più bello di qualunque bellezza sei più giusto di qualunque giustizia Signore cosa c'è una cosa che possiamo amare meglio di te più di te non esiste perché tu sei tutto tu sei tu ci hai creato ci hai perdonato quando eravamo nella forza del peccato ci hai lavato col tuo sangue ci hai rimesso in carreggiata per tornare ad essere figli di Dio tu ci hai dato la salvezza Signore Signore tu sei l'unica cosa che vale la pena veramente degno di essere amato con tutto il cuore tutta la mente tutte le forze tutto il nostro tempo Signore Gesù e chi non ti ama con tutto il cuore e perché non ti ha mai conosciuto per questo che Gesù dice andatevi io non vi conosco la gente così grazie Signore non è sufficiente essere religiosi e fare miracoli qui ci vuole l'amore per il Signore grazie Gesù Amen Dio vi benedica fratelli il programma continua non è chiuso ancora qui c'è altro da fare compresa la comunione Dio vi benedica gloria a Dio Angela dimmi e voglio chiederti una domanda ancora su questo soggetto è da parte di Francesco che ha scritto Pace fratelli e sorelle Dio vi benedica grandemente e sia con voi oggi e in eterno può fratello Giuseppe spiegarmi il libro Il Cantico dei Cantici? Grazie Sì L'ho spiegato scrittura per scrittura? No come vuoi tu però almeno spiegarlo in generale Ho fatto il libro L'Apocalisse scrittura per scrittura Sì Ci vuole tempo Guarda il secondo Corinthians 11 secondo Corinthians 11 2 per cortesia questa è la scrittura per il libro Cantico dei Cantici Secondo Corinthians 11 2 Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo Vi ho fidanzati Secondo Corinthians 11 2 Alleluia Allora questa scrittura dammi un altro passaggio Sì 54 4 a 7 Per spiegare il libro Cantico dei Cantici che è Salomone con che l'ha scritto in apparenza sembra l'amore di un uomo e una donna in realtà anche per il fatto che è nella Bibbia e sta parlando dell'amore di Dio Cristo Cristo Dio e la Chiesa Quindi il Cantico dei Cantici è una rappresentazione dell'amore di Dio per la Chiesa? Sì la relazione Cristo e la Chiesa E perché entra in alcuni dettagli diciamo un po' un po' troppo cioè sta illustrando delle scenete che non si applica a Dio Sì perché è questo l'unico modo che possiamo capirlo sta parlando la lingua degli umani va bene in cielo come sta la relazione non ci ha dato di sapere Paolo è andato su in cielo a vedere un po' che succede però ha detto quello che ho visto non è dato agli uomini di proferire secondo Corinzi 12 è dato al terzo cielo primo cielo è quello che vediamo con le nuvole secondo cielo è tutto quello attorno dove c'è Satana il cielo il cielo del diavolo e poi e poi c'è il terzo cielo che sarebbe tutto il resto infinito e mi legge le favore Isaia 54 4 al 7 Sì Isaia 54 4 al 7 Non temere perché tu non sarai più confusa non avere vergogna perché non dovrai più arrossire ma dimenticherai la vergogna della tua giovinanza non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza poiché il tuo creatore è il tuo sposo il suo nome è il Signore degli eserciti il tuo Redentore è il Santo di Israele che sarà chiamato Dio di tutta la terra poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata il cui spirito è afflitto come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata dice il tuo Dio per un breve istante io ti ho abbandonata ma con immensa compassione io ti raccoglierò continua fino a 7 devi leggere sì sì ho letto grazie Signore grazie Gesù a breve istante ti ho abbandonata cioè per i peccati no cioè davanti a Dio è un istante Dio non ha tempo a noi ci sembra un'eternità ma questa vita non è così lunga grazie a Dio che non è così lunga verso 5 lo rileggi Isaia 54 5 poiché il tuo creatore è il tuo sposo il suo nome è il Signore degli eserciti il tuo Redentore è il Santo di Israele che sarà chiamato Dio di tutta la terra alleluia alleluia il canto dei canti ci mostra diciamo è una parabola attenzione che molti interpretano la Bibbia in modo carnale è un uomo una donna una parabola va bene la Bibbia è scritta in un modo che la zizzania la zizzania non deve capirla è scritta in codice va bene la Bibbia mostra come Dio c'è i suoi codici prima del compiuto e senza compiuto va bene la parabola che vediamo è la relazione carnale perché quella è la sola cosa che possiamo capire che però viene a tradurre in spirituale va bene come sta la relazione in cielo tra Cristo e la sua sposa non ci è dato sapere e non c'è bisogno di saperlo quando saremo là sapremo solo che sarà giusto perfetto meraviglioso alleluia sì amén bene abbiamo risposto a Francesco sì quindi è la il cantico dei cantici è una rappresentazione della relazione molto personale intima che possiamo avere con il Signore spiritualmente non esiste relazione più intima di Gesù nel nostro cuore è impossibile cioè io e mia moglie non l'abbiamo cioè il suo spirito non è nel mio cuore cioè il mio amore è per lei ma il suo spirito no capito è bene che non sia così neanche il mio nel suo che sarebbe possessione cioè il suo spirito e basta amén sì e quindi sigillati le vergini con olio sigillate il sigillo spirituale per il matrimonio è importante che una donna conserva la sua virginità per offrirlo come donna allo sposo oggi oggi non è più di moda però davanti a Dio è così chi ci è riuscito è benedetto chi non ci è riuscito donna o uomo perché anche l'uomo è lo stesso e in Cristo Gesù si è perdonati va bene in Cristo Gesù va bene amén grazie signore allora ci fermiamo con il messaggio facciamo una pausa e poi andiamo ad alcune testimonianze dai fratelli ascoltiamo Patrizia Borlotti io ti amo un canto adatto per questo messaggio di oggi io ti amo Gesù io ti amo con tutto il mio cuore e adoro stare insieme a te la mia vita è conoscere te ed ogni mio passo è legato al tuo io ti amo e non riesco a non dirlo lo ripeto ogni giorno senza smettere mai la mia vita è fare ciò che tu vuoi e farti gioire con quello che io perché tu sei per me tu vivi in me tu credi in me tu sei per me tu vivi in me tu credi in me io ti amo e posso sentire più forte il tuo amore adesso più che mai la mia vita sarà sempre tua non posso pensare a un minuto senza te perché tu sei per me tu vivi in me tu credi in me tu sei per me tu vivi in me tu credi in me e io adorerò soltanto te io innalzerò per sempre solo il nome tuo io ti amo dolce e vero Dio io ti amo e ti amo e ti amerò e io adorerò e io adorerò soltanto te io lo griderò per sempre che tu sei mio Dio io ti amo non mi stancherò non mi stancherò io ti amo io ti amo sempre lo dirò io ti amo con tutto il mio cuore e adoro e adoro insieme a te la mia vita e fare ciò che tu vuoi per farti gioire gioire io ti amo 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 io ti amo